Con le zampe dentro, lei ci va... Sì perché lei è a favore dell'acqua, d'occhiata. Sta schizzando tutte le parti perché c'è già... Non è che ora ci vuoi camminare dentro lei? E io ho paura che farà così. Perché questa gatta e l'acqua sono così amiche? Guardala! Mi sta bagnando a me! Cioè, ci beve e poi ci gioca. Da bene mettere un tappetito più grande. Asciuga lì. Di carbo da morire! Ti piace già da? Grazie! Grazie!